Ciao a tutti, chi è quell'uomo che ti pensa spesso? Scegli il matto di Tarocchi che ti attira di più, che ti attrae di più. Questo video volevo fare un interattivo affinché tu possa avere un'idea di chi è quell'uomo che ti pensa spesso. Prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e se vuoi delle risposte precise mirate alle tue domande puoi abbonarti al canale. Abbonandoti al canale potrai ricevere delle risposte precise alle tue domande partecipando ad apposite live dove solo tu che sei abbonato potrai farmi delle domande a cui risponderò in diretta. Adesso devi scegliere o il colore blu o il colore nero o il colore rosso. Scegli il colore che preferisci per, diciamo, iniziare a fare questo rituale. Allora, ho il colore blu, ho il colore nero, ho il colore rosso. Partiamo dal colore blu, quindi togliamo temporaneamente gli altri due e partiamo dal colore blu. Perché hai scelto il colore blu? Allora, vediamo un po' che è quest'uomo. Allora, beh, è un uomo che abbiamo l'otto, abbiamo il nove, il nove di bastoni. Quindi il nove di bastoni è un uomo che ama molto la sessualità. Sicuramente ha una forte personalità, ma ha anche dei sentimenti comunque nei tuoi confronti perché sta portando su una mano la coppa dell'amore. Anche se, diciamo, abbiamo una certa debolezza da un punto di vista economico. Quindi da un punto di vista economico ha una certa debolezza. E l'altra carta era sempre la regina di denari perché è tenuto in scacco da una donna probabilmente più grande di lui che lo controlla da un punto di vista economico. Lui ha un po' di debolezza da un punto di vista economicamente debole, diciamo così. Quindi questo è un fatto fondamentale da tenere presente. Ma nei tuoi confronti comunque prova sicuramente amore, prova coinvolgimento. Ne abbiamo questa conferma. Quindi è un uomo di fatto innamorato, ma un po' tenuto in scacco dal punto di vista economico. Anche se ha dei sentimenti solidi nei tuoi confronti e vuole andare alla ricerca di un'unione. Un'unione che possa svilupparsi alla luce del sole. Va alla ricerca di una donna che sia pienamente sviluppata dal punto di vista della sessualità. Che non abbia tabù della sessualità. La sessualità viene sempre fuori anche con il 2D bastoni. E diciamo che abbiamo anche poi qua le spade. Ma le spade rappresentano un po', certo, quella parte diciamo logica e razionale presente comunque in tutte le persone. Quindi è una persona che, quella che ti pensa, che potrai trovare, che ha soltanto questa debolezza da un punto di vista finanziario ed è tenuta in scacco da una donna più grande. Vediamo l'ultima, è che potrà mettere in crisi anche effettivamente la vostra unione. Quindi il punto debole è il punto economico. Per il resto c'è passionalità e c'è volontà di costruire qualcosa. Se verrà superato lo scacco economico, si potrà anche creare una buona unione da questo punto di vista. E adesso passiamo alla lettura nera, chi ha scelto il colore nero. Vediamo un attimino che tipo di uomo è. Qua invece abbiamo, a differenza di prima, una certa stabilità da un punto di vista finanziario, ma un po' meno, diciamo, fedeltà, quindi un uomo un po' più libertino, apparentemente freddo comunque. Viene fuori la forte stabilità economica di questa persona. I sentimenti nei tuoi confronti ci sono, ma sono abbastanza scadenti. E è un uomo che ha raggiunto la pienezza da un punto di vista dello sviluppo economico. Sta venendo fuori, diciamo, i denari in tutte le salse. E stanno venendo fuori le spade in tutte le salse. Quindi il decimo, un uomo che ha anche una completezza, diciamo, da un punto di vista, anche una completezza da un punto di vista, possiamo definire, mentale. Quindi intellettuale. Una persona intellettualmente completa, ha soldi economicamente, un po' latitante nei sentimenti, nei tuoi confronti. Mentre invece l'interesse principale nei tuoi confronti è quello sessuale. Vediamo un attimino se ci dà altre cose. La ruota della fortuna. Tu, diciamo, la fortuna sarà un po' dall'altra parte, anche se non completamente. E poi abbiamo questo re di bastoni, che è una figura manipolativa. Ecco, quindi devi stare attento, attenta, perché quest'uomo che ti pensa è comunque una figura manipolativa, una figura che bada più al, diciamo, al suo successo personale, e bada più al suo consolidamento economico, potrebbe affascinarti proprio perché ti può, diciamo, far intendere un futuro dal tuo punto di vista, anche economico, soddisfare questa cosa qua, ma di fatto è un uomo che ti vorrà in qualche modo manipolare e controllare. E veniamo all'altro, veniamo all'altro che sarebbe il colore rosso. Veniamo al colore rosso, che è l'ultima girata. Vediamo chi è quest'uomo appartenente al colore rosso. Allora, abbiamo un principio di sentimenti, anche se è proprio un principio e non ancora molto consolidato. C'è una donna che ti darà molto fastidio, una donna matura, solida, algida, fredda, calcolatrice, che in qualche modo ti ostacolerà, o cercherà di ostacolare la relazione, anche se i sentimenti comunque sono increscendo, nonostante gli ostacoli sono increscendo. E c'è anche una solidità, diciamo, da un punto di vista della stabilità materiale, anche degli impegni che questa persona prende, e anche qua da un crescendo, diciamo, un crescendo di impegni nei tuoi confronti. Però questa freddezza comunque si mantiene, ecco, quello che traspare è che ci sono sentimenti, ma manca la passione, la passionalità da questo punto di vista è latitante. Anche se può veramente succedere di tutto, cioè quindi è una relazione che il matto ci sta dicendo che è una relazione che è aperta a tutte le possibilità, a 360 gradi. Nulla può, diciamo, è precluso, ci sono tutte le possibilità. Vediamo tra queste tante possibilità quelle che sono più probabili a realizzarsi. Beh, sicuramente anche se è lento, è un successo. Il carro del successo, una carta lenta, ma procede inesorabilmente verso un successo. Quindi questo è un altro punto molto importante. E il cavaliere di bastoni, quindi, porta avanti comunque sempre la passionalità. Quindi è una relazione questa che, diciamo, potrebbe essere anche una relazione di trombamicizia, questa qua, dove quella che potrebbe andare avanti. Vediamo se ci sono altre possibilità. La stabilità economica ci può essere. Possono venire fuori anche, diciamo, stanno venendo fuori i sentimenti un po' deficitari, calanti. Il re di spade è una persona fredda, algida. Vediamo l'ultima, l'ultima carta che ci dice C'è una relazione che alla fine è destinata comunque a chiudere. Destinata a finire, non avrà più possibilità di guardare oltre e di andare avanti. Perché l'otto a spade lo conferma. L'otto a spade lo conferma. Questa relazione si esaurirà a breve. Può avere molta intensità, ma un tempo breve. Il carro non riuscirà a raggiungere la sua vittoria. Questo è per quanto riguarda questa relazione. Bene. Per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramaschi. Iscriviti al canale. E se vuoi delle risposte precise e mirate alle tue domande Puoi abbonarti al canale. Ciao a tutti.